Ai microfoni del capoluogo il vicequestore della Polizia d'Estato, il dottor Marco Mastrangelo. Questa mattina la conferenza stampa per annunciare delle misure cautelari eseguite nei confronti di due cittadini italiani e di un cittadino di nazionalità albanese, più un quarto provvedimento in realtà non ancora eseguito. Ciò che è emersa però è l'individuazione di una vera e propria associazione a delinquere, tra i fatti contestati, rapine, lesioni personali, minacce. Sì, l'attività investigativa che è durata alcuni mesi ha consentito appunto di ricostruire degli episodi delittuosi di reati contro la persona, quindi lesioni, atti persecutori e reati contro il patrimonio, nella fattispecie rapina e furto. A capo, come principali protagonisti di questi episodi criminali, abbiamo individuato cinque persone, due maggiorenni e tre minorenni che hanno costituito una vera e propria associazione a delinquere, abbiamo appunto, l'autorità giudiziaria ha riconosciuto la sussistenza di questo vincolo associativo. Queste cinque persone in molteplici episodi appunto hanno dato vita proprio a una serie di angherie, di gravi reati commessi nei confronti di soggetti minorenni, in particolare di due ragazzi minorenni, ma anche di altre persone che intervenivano in loro difesa. Oltre ai cinque componenti dell'associazione per delinquere, abbiamo ricostruito anche le singole responsabilità di altri soggetti, in particolare di due soggetti maggiorenni che, anche se hanno partecipato a un solo episodio, per la ferocia e la violenza che hanno espresso picchiando le vittime, sono stati oggetti anche loro di una misura cautelare degli arresti domiciliari. Reati commessi dal giugno del 2018 allo scorso febbraio 2019. Quando c'è stata la prima denuncia e come si sono svolte quindi le indagini? La prima denuncia per quanto riguarda i reati contro la persona, quindi per l'aggressione subita, è stata presentata nell'ottobre 2018. Dopodiché, con l'ascolto delle vittime innanzitutto e delle persone, di altri ragazzi che hanno assistito agli episodi, è stato possibile ricostruire altri episodi precedenti che non erano stati portati all'attenzione delle forze di polizia e successivi ulteriori episodi delittuosi commessi sempre nei confronti dei primi denuncianti e di altri ragazzi. In particolare, anche episodi di furto di telefono cellulare, di tentativo di rapina, di rapina tentata e rapina consumata, di atti persecutori e di lesioni, in alcuni casi anche abbastanza gravi. In alcuni casi la vittima è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale e ha avuto anche una proniosi di alcuni giorni, quindi fatti anche abbastanza gravi. Per quanto riguarda invece lo sviluppo delle indagini, sono state condotte fondamentalmente grazie a un attento, minuzioso e costante attività di escursione testimoniale. Quindi abbiamo sentito le vittime, ripeto, e le persone presenti ai fatti che hanno collaborato alle nostre indagini e hanno fornito preziosi indizi sulla identità e sulla responsabilità dei rei, che questa mattina sono state appunto colpite dalle misure cautelari. Vicequestore, i fatti contestati sono avvenuti nel centro storico della città dell'Aquila. In che misura possiamo dire che il fenomeno del bullismo, il fenomeno comunque della violenza in generale, sia diffuso in questo territorio? Allora, guardi, come dato generale, non mi sembra, dall'analisi dei fatti che vengono portati alla nostra attenzione, non parlerei di fenomeni abbastanza, di fenomeni diffusi. Ci sono ovviamente dei fenomeni di bullismo, ma di un'entità molto più lieve e molto più fisiologica rispetto a questi fatti di cui abbiamo dato conto questa mattina. Questi fatti che sono successi e che abbiamo ricostruito sono particolarmente ferati, ma rappresentano appunto un'eccezione alla normale vita civile della città. Per questi fatti sono contento di aver potuto stamattina darvi conto dell'esecuzione di queste misure cautelari. Quindi la nostra attenzione è sempre alta e siamo riusciti appunto a individuare dei responsabili fatti gravi e ad ottenere ed eseguire delle misure cautelari abbastanza gravi nei loro confronti. Adolescenti aquilani vittime di questi reati, sicuramente però nel quadro emerge complessivamente da un lato una certa paura e una certa omertà anche nel denunciare questi fatti, dall'altro invece anche il coraggio di chi ha provato a fare qualcosa, ad intervenire. Sì, assolutamente. Più che omertà direi un iniziale ritrosia a raccontare questi episodi. Dopodiché una volta che queste persone, che questi testimoni e le vittime sono stati poi sentiti dai colleghi della squadra mobile, hanno tranquillamente e in maniera puntuale raccontato tutti i fatti di cui sono stati i testimoni e questa loro collaborazione ci ha consentito ovviamente di ricostruire le responsabilità dei singoli malviventi. Grazie al vicequestore, il dottor Marco Mastrangelo.